Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Iniziamo insieme una settimana, leggeremo i giornali quotidiani, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico per vedere le notizie del giorno. Oggi ovviamente c'è una grossa aspettativa, ma molte persone già lo sapranno, come è andato l'esito delle elezioni primarie che si sono svolte ieri nell'ambito del centro-sinistra, dove si sono sfidati quattro candidati a sindaco. Ovviamente molti si sono già informati per quanto è venuto, ma i giornali questa mattina fanno anche un esame della situazione. Ma intanto noi procediamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo che cosa si festeggia oggi. Ho detto che cosa perché non chi. Ebbene oggi si festeggia l'annunciazione del Signore. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Sono le parole che l'angelo Gabriele ha detto a Maria nella sua casa di Nazareth, quella stessa casa che ora è custodita a Loreto, qui a due passi dalla nostra città, da Fano. Quindi un tesoro religioso per tutte le Marche. Il percorso della salvezza inizia proprio con questo annuncio. Maria con umiltà disse, ecco la serva del Signore, si è fatto di me secondo la tua parola. E qui comincia l'anno zero per quanto riguarda il cristianesimo e l'anno zero anche per quanto riguarda l'adattazione della nostra aerea. Quindi un momento veramente topico, un momento importante. Ed ora ci ho detto, passiamo alle previsioni del tempo. Vediamo come oggi le previsioni si mantengono buone su tutta la regione Marche. Tempo ancora stabile e molto mite, molto mite. Primaverile in pieno proprio a temperatura è molto gradevole. Su tutte le Marche con cieli in prevalenza sereni e oppure al più velati. La ventilazione è debole o moderata. Sulle coste i venti ispireranno da sud-est, nell'entroterra da est-nord-est. Le temperature sono leggermente in calo, comunque la massima è 20 gradi, la minima è 13, il mare è calmo. Il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 19.42. Ed ora apriamo i giornali per quanto riguarda appunto le notizie del giorno. Partiamo dalla prima pagina del resto delle Carlino, dove diamo subito l'esito delle primarie. Primarie serve il secondo turno. Mascarin vince. Mascarin era il candidato della lista civica in comune, sempre nell'ambito del centro-sinistra, ma non basta. Al secondo posto arriva Cristian Fanesi, il candidato del Partito Democratico, e saranno loro due che domenica prossima si sfideranno al ballottaggio. Vedremo poi anche nell'interno come sono andati gli altri candidati. Ma al momento passiamo alle altre notizie, restando sempre sulla pagina di Pesaro. Eccolo qua, il titolo di apertura. Parco, mira al fiore, la carica delle famiglie. E ieri le famiglie si sono appropriate di questo parco, che è veramente un oasi di verde, un polmone di Pesaro, ma che purtroppo viene usato in maniera impropria da coloro che poi si comportano in maniera deviata. Droga e altre cose che tutti voi sapete. C'è anche una notizia di basket, richiamata in prima pagina. VL, bel colpo, sbancata Sassari. Ed è la prima volta nella storia. Era una bestia nera, Sassari, che stavolta è stata sconfitta. Veniamo ad Ancona. Eccolo qua, i titoli richiamati. Dalla città al mare, con la ciclo pedonale, inaugurata la pista ciclabile, che collega il capoluogo a Porto Novo. Una bellissima struttura turistica che passa in un paesaggio veramente mirabile. E poi passiamo invece alla cronaca. Botte da orbi tra ragazzini in pieno centro. I carabinieri indagano per rissa. E per quanto riguarda Iesi, ci sono state rapine in serie, ma i video incastrano l'autore e quindi viene arrestato. Ad Ascoli e a Fermo, malore alla guida, un passeggero prende il volante ed evita la tragedia. Era la persona che stava accanto al guidatore, che si è sentito male. A Fermo, una notte brava in ospedale per un ubriaco, che è stato poi condannato. A San Benedetto, la carica dei 3.000, la maratonina dei fiori. Era bellissimo il tempo e quindi le condizioni climatiche favorevoli alla realizzazione di questa corsa. E poi c'è invece chi ha approfittato di questo bel clima per fare i primi bagni. Bagni e tintarella in spiaggia sulla costa. Ed è già estate, questo da Cupra a Porto d'Ascoli. Vediamo anche qualche notizia di Macerata. Il punto dell'assessore a Villa Potenza, nuovo centro fiere, fine lavori entro l'estate, ha pronosticato. A Treia, il progetto dopo di noi, ecco la struttura nel nome di Soldini. E a Civitanova, pedalando fino a Istanbul. Pensate che bellissimo itinerario in bicicletta. Compiano due ciclisti e sono Morresi e Belluccini. Partita l'avventura verso questo posto che Istanbul è un posto ancora magico. Vabbè, insomma, era il capolinea dell'Oriente Espresso. Questi vanno in bicicletta. Comunque è una bella avventura. E allora apriamo il giornale. Vediamo subito la notizia che riguarda Fano. Lo vediamo qui. Le primarie del centro-sinistra vince Mascherin, ma non basta. E si va al balottaggio con Cristian Fanesi. Fano, il candidato di Incomune, prende 937 voti. Secondo l'attuale vice-sindaco, con 890. Terzo, Lucarelli. Lucarelli ne prende 765, quarta alla fattori con 459. Alle urne si sono recati 3071 elettori e il secondo round si svolge domenica prossima, l'abbiamo già detto. Ebbene, con queste poche parole c'è tutta la sintesi di quello che è stato. Ma è stata una domenica molto attiva, in modo particolare per i protagonisti, con certo saspes anche, una certa mobilitazione anche di tutta la città. Però, insomma, 3.000 abitanti su 60.000. E' una percentuale pochino, insomma, un po' pochina, ecco. Poi magari dopo la città non si lamenti se chi ha votato, ha votato per quel candidato, mentre magari le aspettative erano per un altro. Però, insomma, dopo dipende anche la partecipazione al voto. E' sempre una garanzia di democrazia e speriamo che domenica questa partecipazione aumenti, perché veramente il sindaco dovrebbe, un candidato sindaco anche, non un sindaco, perché poi il sindaco lo si discute a giugno e lì sarà un'altra questione. Ebbene, ma anche un candidato deve avere un po' un certo supporto, perché altrimenti dopo la cosa non è credibile. Tra il primo e il secondo un divario di soli 47 voti. Ora, bisognerà vedere nel balottaggio i voti di Etienne Lucarelli e di Cora Fattori su chi si riverseranno. Se si riverseranno su Samuele Mascarin oppure su Cristian Fanesi. E allora lì poi si determinerà il vincitore. Vediamo anche qualche analisi che fa il resto del Carlino. Una votazione che pone sul tavolo sicuramente un fatto, e cioè che Samuele Mascarin, che capeggia, cioè guida la lista di Incomune, ha preso più voti del candidato espresso dal Partito Democratico, cioè Cristian Fanesi. Un'espressione di voto che dobbiamo analizzare, ha detto il segretario del PD, Renato Claudio Minardi. Comunque, nonostante gli inviti ad andare a votare e con una campagna elettorale molto pressante per scegliere il candidato sindaco del centro-sinistra, l'affluenza è stata sotto la soglia di 4.000 euro. Ma comunque Minardi nega che c'era stata una soglia di 4.000 euro. E poi ci sono delle curiosità per quanto riguarda il voto. Qualcuno magari si è confuso, pensava di votare Luca Serfilippi, ma invece il centro-destra non c'entrava proprio per niente, e quindi non so poi per chi avrà votato. Vediamo anche come riporta la notizia il Corriere Adriatico. Eccolo qua, il titolo, primarie, votano 3.000 elettori al balottaggio, mascarine, fanesi. Affermazione personale del candidato della sinistra, rispetto alle consultazioni per seri, un calo del 28% di presenze. Quindi un calo piuttosto di elettori, insomma un calo piuttosto sensibile. E questo è un indice che forse dovrà essere considerato dal punto di vista politico, perché devo dire che in questi ultimi tempi la campagna elettorale è stata piuttosto effervescente, coinvolgente. I candidati hanno fatto delle riunioni in tutti i quartieri, anche il centro-destra non è stato certo alla finestra, anche lui si è attivato, in modo particolare Luca Serfilippi, ha anche lui organizzato delle riunioni, degli incontri, e quindi tutto questo però non ha determinato, non ha svegliato una città che è rimasta un po' sonnolenta, dobbiamo dire così, sonnolenta. Affermazione personale del candidato della sinistra, rispetto alle consultazioni per seri, e c'è questo calo. E vediamo, ora lasciamo questo argomento, che poi ovviamente riprenderemo anche nel corso dei nostri telegiornali. Vediamo ora un articolo che riguarda il compianto per la morte di un grande architetto che anche a Fano ha lasciato un segno, ovvero Italo Rota. Italo Rota, un architetto visionario, è stato il commento del sindaco Massimo Seri. E dobbiamo dire che dopo la recente scomparsa di Giuliano Vangi, il celebre scultore che ha regalato a Fano la statua della Concordia, posta sulla fontana dei giardini di Piazza Ammiani, ora la città piange la morte di Italo Rota, un altro cultore della bellezza, che ha fatto dell'architettura moderna un modo originale per interpretare le stanze del mondo d'oggi, all'insegna della ecletticità. Un insieme di stili diversi, che però vengono composti in una armonia nuova, in un modo nuovo di presentare le costruzioni. E non si è disdegnata nemmeno l'intelligenza artificiale, perché Italo Rota era sensibile all'evoluzione dei tempi. E lo dimostra anche il progetto che ha realizzato per il Sant'Arcangelo, dove si sta realizzando il Museo del Carnevale e la Casa della Musica, un progetto fantastico, eclettico, che interviene in modo originale, ma anche in modo funzionale, per quanto riguarda l'esposizione di questi due beni immateriali del nostro territorio, il Gess da una parte, il Carnevale dall'altra. E invece nella seconda pagina di Fano non si parla di Fano, si parla invece di Fossombrone, ma si parla anche di una bella notizia, il Cammino dei Cappuccini, non solo storia, sostegno all'accoglienza dei conventi. Un percorso bellissimo da fare a piedi, in bicicletta, come uno vuole, da Fossombrone ad Ascoli Piceno, ovviamente suddiviso in tappe. E ci sono qui tanti monasteri, tanti conventi, in cui si può soggiornare. Il Governatore Acquaroli, intervenendo, ha detto che è un grande progetto. Il Cammino dei Cappuccini parte dal convento di Fossombrone, dove l'ordine è nato nel 1528, per raggiungere Ascoli Piceno. La prima parte va da Fossombrone a Camerino, 220 chilometri in 10 tappe, un percorso molto impegnativo dal punto di vista fisico, se uno lo fa a piedi, a causa della fisionomia un po' dell'entroterra. C'è tutto un sale e scendi, tra colline e pianure. E poi ci sono tappe dai dislivelli importanti, e poi si prosegue, e qua sul giornale vengono segnalate anche altre bellezze che si incontrano durante il percorso, e anche il modo di effettuare questo percorso. Ebbene, queste sono un po' le notizie che riguardano Fano e la nostra provincia. Ora passiamo anche un po' sempre nell'entroterra, e vediamo San Lorenzo in campo, dove purtroppo una tragedia. Pensionato muore per i traumi subiti nell'incidente ad Arcevia. Si tratta di Rodolfo Ragni, di 74 anni, sabato si era schiantato in auto contro un albero. Non ce l'ha fatta, il 74enne di San Lorenzo, rimasto vittima appunto di questo incidente. Vediamo la notizia di Senigallia. Senigallia gourmet strega all'Oriente, Brunelli in Cina fa scuola di gelato. La gastronomia è sempre una forza attrattiva per quanto riguarda il turismo. E questa volta si parla del re del cioccolato che sbarca a Shenzhen, il pizzaiolo Sarnataro, a maggio a Tokyo, alla pizza Master Cap. E sono veramente degli ambasciatori del nostro mangiar bene, del nostro gusto e soprattutto delle nostre dolcezze, perché queste sono veramente dolcezze. Ma a questo punto noi riprendiamo invece il resto del calino che abbiamo per un attimo abbandonato e diamo conto anche di un'altra notizia che è accaduta in Ancona. Far West, in pieno centro, calci, pugni e sediate, individuati quattro minori. E sono veramente minori che hanno così imbastito una rissa molto molto violenta. E purtroppo sono sempre più questi casi di violenza che coinvolgono minori, sedicenni, diciassentenni, che quando veramente si confrontano fanno dei danni, perché sono ragazzi violenti. Violenti un diciassettenne può avere ragione benissimo anche di un trentenne e di un quarantenne. Far West, in pieno centro, sarebbero arrivati dalla provincia per trascorrere una serata di Baldoria. I carabinieri indagano per rissa e si attendono eventuali denunce da parte dei feriti. Comunque sembra che non resterà impunita questa barahonda che è andata in scena nel tardo pomeriggio di venerdì scorso in pieno centro. I carabinieri hanno già identificato quattro minorenni tra i 16 e i 17 anni, tutti i sudamericani residenti in provincia di Ancona che avrebbero innescato questo Far West, questo Bronx, così possiamo dire, poi esploso a colpi di catene, sedie, morsi, bottigliate tra Corso Mazzini e la traversa di via Benincasa. Insomma, veramente, hanno fatto da matti. Poi abbiamo anche questa invece, questo bellissimo itinerario ciclistico per Dancona a Porto Novo in bici dalla città al mare, ciclo pedonale da sogno immersi nella natura per arrivare a Porto Novo. Ebbè, bisogna fare, bisogna sperimentare questa bella iniziativa. Ma restiamo nel campo della cronaca. Iesi tra rapine in serie, è arrestato un 45enne, è stato incastrato dai video. I carabinieri sono riusciti a risalire all'uomo che per effettuare i vari colpi aveva cercato di camuffare la sua corporatura, denunciato anche un 23enne. L'impianto di videosorveglianza è sempre uno dei maggiori sussidi per le forze dell'ordine per così avere, rintracciare insomma i malviventi che poi si compiono artefici di atti che vanno contro il codice, che vanno contro insomma le cose previste dal codice. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino. Vediamo anche la notizia che riguarda Pesaro. C'è stato un raduno, un raduno di moto in Piazza del Popolo a Pesaro che ha avuto molto, molto successo perché si tratta di moto storiche. Asi Moto Day, questo era il titolo del raduno, Tripudio in Piazza ma c'è chi contesta il Sidecar delle SS. Era questo, un Sidecar che durante la Seconda Guerra Mondiale era stato usato dalle SS, insomma ha un cattivo ricordo, seppure è una macchina fatta bene che quella volta ha funzionato meccanicamente, mi riferisco, nel migliore dei modi. Ebbene c'era tutta la storia del motorismo italiano e non solo, ieri mattina in mostra in Piazza del Popolo per l'evento nazionale Asi Motor Day organizzato dall'Automoto Club storico italiano con la collaborazione del Comune. 200 motociclette in esposizione a cui hanno preso parte oltre un centinaio di collezionisti che appartengono ai club federati appunto all'Asi. Abbiamo deciso di portare oltre 30 veicoli antaguerra della storia di Benelli e Motobi, insomma, hanno detto gli organizzatori in quanto pensero poi era la patria della Benelli e quindi si è fatto anche un punto su questa situazione. Cum, un'altra iniziativa di attrazione che si è svolta a Pesaro nel corso di tutte le celebrazioni di Pesaro capitale nazionale della cultura. Ebbene il festival di Recalcati Recalcati è colui che l'ha organizzato questo festival totalizza 6.000 presenze noi esiliati da Ancona sì perché è stato un festival che era nato che era stato organizzato da Ancona ora invece è venuto a Pesaro. Lo psicoanalista ha parlato della scuola prima di lui Gad Lerner e De Luca sono stati due incontri molto molto affollati. E in fondo pagina abbiamo un omaggio invece a Luca Nardi un altro tennista che magari non ha avuto i successi di di colui che è arrivato Gianni Xinner che è arrivato ormai al top del tennis mondiale però insomma se la cava molto bene è al 75esimo posto e questa volta anche lui si è qualificato a Monte Carlo dove ci sono altri concorrenti veramente veramente temibili però insomma anche lui ha sconfitto avversari importanti come il numero uno al mondo Novak Djakovic e quindi anche lui si merita la sua dose di applausi così come se la merita un altro tennista che aveva un pochino così lasciato la sua immagine la sua immagine un po' appannata dopo i successi che aveva tenuto ed è Barrettini 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 rinasce a Marrakesh in Marocco e non voglio fermarmi qui un titolo ATP dopo due anni magari di un pochino di prestazioni opache e nasce anche Barrettini benissimo il tennis in prima pagina e dobbiamo dire anche che questa settimana entrante a Fano si svolge un torneo dedicato ai preti quindi giungono preti da diversi paesi europei a Fano al Circolo della Trave dove si sfideranno con racchette e pallonetti e in maniera molto molto professionale perché poi ovviamente anche i preti sono degli atleti bene abbiamo visto il resto del Carlino lo mettiamo da parte ora prendiamo il Corriere Adriatico abbiamo già parlato del Cammino dei Cappuccini e anche di qualche notizia che proviene dall'entroterra abbiamo visto anche Senigallia ora vediamo la pagina di Pesaro la pagina di Pesaro si parla degli appartamenti estivi dove cominciano ad apparire i cartelli affittasi perché insomma anche il privato si prepara alla stagione turistica e vediamo il titolo case vacanze affitti più cari ma cresce anche la domanda per le agenzie immobiliari conta l'effetto capitale capitale nazionale della cultura stipulato già il 60% dei contratti possibili si allunga il periodo di presenze turistiche appartamenti in locazione già dal mese di luglio questo è un po' il quadro che si fanno e c'è anche un quadro che riguarda la situazione fanese i villeggianti del fanese preferiscono l'albergo ma continua a stringersi la forbice dei giorni dedicati alle ferie e già con l'approssimarsi della Pasqua fanno di solito la Pasqua il periodo in cui si vedono le prime avanguardie dei turisti che vengono a passare un weekend nella nostra città si guardano attorno e magari decidono poi qui di fissare le loro vacanze per i mesi estivi ed ecco perché appaiono anche i cartelli di affittasi nella città Bretella di Muraglia è stata inaugurata ci sono le prime reazioni degli automobilisti semaforo verde l'esordio convince appunto coloro che sono degli degli usuari così possiamo dire del traffico in questo tratto e poi invece vediamo come Cagli inizia la sua settimana della cultura agganciata a Pesaro con due nomi famosi uno è quello di Di Giorgio Martini che ha fatto il grande Torrione e poi Eliseo Mattiaci l'arte al centro della settimana Cagliese e vediamo anche come a Permignano ha vinto il paglio della rana Matteo di Lorenzi per la torre che taglia per primo il traguardo di questo paglio e l'ultima notizia dobbiamo dire che il successo di questo paglio è stato favorito anche dal bel tempo ma soprattutto dalla spettacolarità di tutta la coreografia che è stata messa insieme per questa rievocazione per questa bella rievocazione storica e qui chiediamo la nostra rassegna stampa io vi do appuntamento domani alle 7 e vi auguro una buona giornata grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto